Ma tra castelli stragati, luoghi infestati, non hai mai avuto paura? Questa è una delle domande che mi viene rivolta ogni tanto quando parlo dei miei argomenti e oggi cercherò di rispondere. Ben trovati i naviganti a questo nuovo appuntamento. Allora, rispondo con piacere tra un minuto a questa nuova domanda. Mi raccomando, intanto lasciatemene sempre di nuove sotto i miei video, sotto in particolare questi, dedicati proprio alla risposta alle domande. Vi volevo ricordare che venerdì 2 dicembre ci sarà il nostro ultimo appuntamento per quest'anno, naturalmente di persona. Sarò al Teatro Deon a Bologna. Sarà una serata molto particolare. Se siete in zona, insomma, passate anche voi a vedere questa serata. e che trascorreremo insieme. Il 2 dicembre, naturalmente, è un venerdì, quindi ci sarà anche il nuovo episodio di Strane Storie. Sarà qualcosa che mi avete chiesto tante, tante volte e che finalmente sono riuscito a trovare il tempo per costruire come si deve, perché richiede molto lavoro. Anzi, sarà solamente il primo di due episodi. Il secondo ci lavoreremo. Intanto iniziamo col primo. Il primo vedrete che sarà una storia incredibile, sostanziosa. Non dico altro, ve lo lascio scoprire quando sarà il momento. Vi ricordo anche che poi sta per iniziare il nostro mini corso per riconoscere e contrastare le bufale, le fake news. Saranno tre incontri gratuiti a cui chiunque potrà partecipare, li potrete seguire. Io vi invito quindi a iscrivervi, andate al sito massimopolidorostudio.com slash fake news, registratevi e presto riceverete tutte le informazioni su come seguire questi incontri. E veniamo alla domanda di oggi, che è effettivamente un po' simpatica. Andrea M. mi scrive, Buongiorno, signor Polidoro, grazie per i suoi video estremamente interessanti. Beh, grazie a te. Pensando al video dove andava a caccia di fuochi fatui, mi è sorta una domanda. Lei non ha mai provato timore, ansia o spavento in una qualche sua indagine? Certo, un serio ricercatore non aspetterebbe altro di, per esempio, vedere un fantasma per poter documentare scientificamente l'accaduto. Tuttavia, anche questi ricercatori potrebbero subire il potere della suggestione, un potere a volte scioccamente sottovalutato. E considerando questo, cosa c'è di più suggestivo che effettuare un'indagine di notte in un cimitero? Beh, grazie Andrea. Effettivamente hai ragione, perché ci sono situazioni che, anche se tu le guardi con un approccio critico, razionale, analitico, possono avere delle conseguenze, possono suggestionare, possono davvero rendere un po' inquieti. Devo dire che ho avuto occasione tante volte di vivere situazioni di questo tipo, al cimitero con la ricerca di fuochi fatui di cui parlavi, ma anche case che si dicevano infestate dai fantasmi, antichi castelli. Ho dormito anche in qualcuno di questi posti in Inghilterra, ho passato giornate in luoghi cimiteri abbandonati per condurre delle verifiche, delle ricerche, in particolare su dei casi che mi interessavano. Beh, a volte sì, è vero, certe situazioni sono, soprattutto con tutto l'immaginario che abbiamo nella testa di film horror, di racconti dell'orrore, che tutti quanti abbiamo in qualche modo assorbito, certe situazioni, certi luoghi in particolare, hanno delle caratteristiche che potrebbero un po' suggestionare. Non ho mai provato vera e propria paura, timore, proprio perché mi avvicino a queste cose, a questi presunti fenomeni, con un approccio razionale scientifico, consapevole del fatto che fino ad oggi nessuno di questi fenomeni è mai stato dimostrato. Quindi devo dire che in realtà l'analisi critica, l'analisi scientifica dei fenomeni paranormali, dello spiritismo, cosa di cui mi occupo, lo sapete, da decenni, su cui ho scritto tantissimo, condotto tantissime verifiche e esperimenti, alla fine mi rende anche un po' difficile godermi certi film di paura, sovrannaturali o altro, perché capisco che sono poco credibili, però insomma mi sforzo e cerco di abbandonare l'incredulità e seguire il racconto. Ma nella realtà, quando mi sono trovato in situazioni di questo tipo, come dicevo, non ho provato un reale timore. La serata, la notte, al cimitero con Garlaschelli, insomma quando ci è capitato di andare alla ricerca di fuochi fatui, beh lì mi aspettavo di essere un po' in ansia, un po' inquieto, insomma alla fine è pur sempre un cimitero di notte, da soli, al buio, e devo dire che invece è stato così, sono state, era estate, tra l'altro faceva caldo, quindi forse se avesse fatto freddo sarebbe stato più fastidioso, più anche proprio fisicamente avrebbe provato più disagio, invece era estate, faceva caldo, come dicevo, e i cimiteri non sono per niente bui come magari ce li immaginiamo, perché è pieno di lumini accesi che in qualche modo illuminano tutte le stradine. Non dico che è stato romantico perché ero con Garlaschelli, ma insomma di sicuro non c'era assolutamente niente di cui avere paura. Chissà, probabilmente ci sono luoghi anche più inquietanti, la cosa più inquietante, se posso dire, se devo essere proprio parlare fino in fondo, sono invece alcune persone che mi è capitato di incontrare, di conoscere persone che evidentemente avevano qualcosa che non andava, diciamo così, avevano bisogno di un aiuto e magari tendevano a interpretare il mondo come un luogo che ce l'aveva con loro oppure interpretare. Insomma, effettivamente in questi casi ho visto come problemi di tipo, a questo punto, psichiatrico direi, possono indurre le persone a vedere il mondo in una maniera distorta e possono portarle a comportarsi, ad avere comportamenti del tutto irrazionali, ma che nella loro irrazionalità sembrano sensati e sembrano avere ragione. Allora, lì forse effettivamente c'è da stare molto attenti perché sono persone appunto con le quali non ha nessun senso dibattere, discutere, sono persone che hanno bisogno magari di un aiuto e quindi vanno aiutate da questo punto di vista. Chiaro che non è il mio mestiere fare questo tipo di lavoro, però chi sta a loro vicino potrebbe prendersene cura in maniera adeguata. Purtroppo non sempre è possibile. A volte queste persone sono anche da sole e le cose diventano molto difficili. Ma per quel che riguarda luoghi, case, oggetti, a volte il quadro maledetto, la bambola, quelle cose lì, devo dire che sono simpatiche simpatiche in realtà, proprio perché ci sono tutti quei collegamenti con la cinematografia horror di paura che dovrebbero spaventarci e che quindi appena li vediamo ci spaventano. Ho fatto grandi discussioni su questi temi, per esempio con Jeffrey Diver, scrittore di romanzi, thriller, anche pieni di tensione che mi raccontava proprio come lui usa questi oggetti di paura o questi luoghi comuni, questi topos, veramente questi punti di riferimento che tutti abbiamo e che appena ne leggi, appena ne senti parlare, inizi a sentire un po' di ansia per costruire delle trame avvincenti e piene di tensione. Il film di Dario Argento sono un bellissimo esempio di questa tensione che viene costruita. Profondo Rosso è uno dei miei film sicuramente preferiti proprio perché riesce a costruire quella tensione, quell'ansia, quell'angoscia in maniera fittizia, totalmente fittizia e se la guardi a mente fredda fa anche sorridere a volte, ma in realtà ti tiene incollato allo schermo. Ecco, se siete un po' deboli da questo punto di vista evitate di guardarlo. Se non l'avete mai visto invece vi pensate che potrebbe essere un'esperienza interessante, è un film di paura, diciamolo pure, beh, potreste guardarlo. Non date poi la colpa a me se avete paura, veramente. Ecco, qui è uno di quegli ambiti in cui è anche, non dico divertente, ma sì, effettivamente è divertente guardare i film horror, guardare i film di paura, leggere i romanzi di paura, molti romanzi di Stephen King fanno veramente paura eppure resta incollato. ed è uno dei miei autori preferiti, forse è il mio autore preferito, come sapete, come alcuni di voi sanno. Tempo fa avevo anche costruito una conferenza tutta dedicata al piacere della paura, al fatto che noi andiamo alla ricerca di sensazioni di paura e come questo rappresenti poi quasi una catarsina, quasi un bisogno di provare quella paura artificiale per rassicurarci che non la stiamo provando veramente, che non stiamo veramente vivendo quella situazione. Quindi una sorta di paura sicura, ecco, dove non c'è nessun pericolo reale ed è uno dei motivi per cui facciamo la coda quando escono questo tipo di film. Se sono fatti bene, come succedeva ai tempi di Hitchcock, ogni volta che usciva un suo film c'era la coda perché si sapeva che si sarebbe provata un sacco di paura ma si era in un luogo dove non sarebbe successo nulla di realmente pericoloso. E con questo discorso insomma sulla paura, sul timore e su come le indagini nei fenomeni paranormali, nei misteri a volte potrebbero portare in situazioni di questo tipo, spero di avere risposto alla domanda e spero che ne abbiate altre perché naturalmente per me è anche una bella occasione per raccontare esperienze che ho vissuto e per cercare di rispondere a quegli interrogativi che spesso mi sento porre anche negli incontri di persone dal vivo. Quindi grazie ancora per questa domanda Andrea, grazie a tutti voi per le domande che mi farete, ci vediamo il 2 dicembre o di persona a Bologna oppure online con il nuovo episodio di Strane Storie e poi naturalmente con il mini corso per individuare e contrastare le fake news. A presto!